ho avuto una un pensiero guardando gli ultimi 20 minuti che a mio giudizio oggettivo cioè guardavo una situazione oggettiva che mi ha fatto pensare male ma non è detto che l'interpretazione mia sia corretta cioè di aver interpretato e pensato male ringraziamo fabrizio bonalumi che ha regalato dieci abbonamenti alla community fabrizio l'abbiamo conosciuto lunedì che è venuto in là con noi grandissimo da desio brianzi secondo me dal 3 a 0 in poi la squadra ha chiaramente giocato per far segnare l'aurice questa cosa all'inizio cioè la notavo questa squadra ma proprio in maniera palese dagli schermi e l'ho vissuta come un che bello no c'è la famiglia poi mi è sembrato tanto forzata questa cosa c'è si percepiva proprio dei compagni che cercavano di far segnare vlavic come se tu ovvero i compagni avvertissero il problema questa è l'interpretazione negativa che mi è venuta cioè perché se un gruppo i giocatori cerca di far segnare vlavic perché pensa che segnando succede poi qualcosa non so come dire che che cito che che allora c'è un problema per la squadra o percepisce che lui la vive male il momento la situazione in non segnare le critiche cioè questa cosa non mi è piaciuta l'idea che una la juve deve pensare a far segnare un giocatore lo facevamo un po con cristiano a volte e non mi piaceva però c'era questa sudditanza totale evidente nei confronti che sono io invece credo che non faccia bene a vlavic questo perché poi il risultato è che mi hanno dato le palle non ho segnato e quindi peggio di prima c'è la squadra avverte il problema vlavic non in quanto non è no aspetta non in quanto non è da juve ma è già in ansia vlavic è già in ansia la quinta partita ufficiale ma ma cosa importa che tu abbia segnato due gol 0 gol 5 gol sereno invece loro lo avvertono in ansia questa è la chiave di lettura negativa che mi è venuta in mente maurizio ma guarda io invece credo che faccia parte delle dinamiche di spogliatoio delle dinamiche di squadra cioè abbiamo lui al centro avanti di questa squadra e il centro avanti di solito nel gol nel calcio deve fare gol quindi loro sanno che la squadra ha bisogno dei gol di dei gol di di dusan quindi questa è la cosa fondamentale io rispetto all'anno scorso lo vedo molto più sereno cioè non è nervoso fa la sua ieri c'è stato un momento dove come ha detto giustamente guido ha sbagliato un tiro al volo dove ha cercato anche sinceramente una bella girata e il pubblico e la curva che vi ha dato dusan dusan l'avete sentito si è sentito forte no dal dallo stadio quindi secondo me lui in questo momento ha la massima fiducia da parte dell'allenatore e dei compagni e sono convinto che la volontà e la l'idea che lui debba far volo debba debba segnare non rientra in una sensazione che la squadra ha avuto di dire dobbiamo aiutarlo perché deve segnare ma lui deve segnare perché se lui segna noi vinciamo mi viene in mente un po facendo un paragone cestistico quando quel famoso time out in una finale in una finale nba quando venne venne disegnato il lo schema e il tiratore e il tiratore diciamo predestinato per vincere la partita 14 secondi della fine e phil jackson invece di andare da michael jordan michael jordan dice ma da steve care perché e qui è un po la stessa cosa cioè invece di dire perché segno io eh ieri fagioli gli dà un assist stupendo dove lui davanti al portiere probabilmente per cercare di fare un gol gli bastava calciare e il portiere ovviamente la palla non la prende quindi io io ribalterei un po questa questa visione non è che la squadra ha avvertito le difficoltà di dusan e loro fa di tutto per ma la squadra ha bisogno che dusan eh segni e torni al gol e secondo me è solo una questione di tempo perché poi a quel livello quando tu hai la fiducia della squadra la fiducia della società la fiducia dell'allenatore è solo un attimo è solo un attimo mi ricordo e poi lascio la parola agli altri facendo sempre una no un aneddoto cestistico i primi le prime partite di di alfonso ford a pesaro dove i primi tornei cominciavano a dire sì ma questo è ma questo ma questo poi alfonso ford vinse il premio come miglior giocatore dell'eurolega e ancora oggi l'mvp dell'eurolega al porto al suo nome quindi voglio dire il calcio e lo sport a quei livelli a volte basta soltanto veramente una scintilla e poi un giocatore come dusan sono convinto che darà il contributo che tutti noi ci aspettiamo ma io voglio dire una cosa a proposito di questo innanzitutto che che io devo ammettere così metto un po di pepe che sono agli anni passati ref non so più sei mesi e inizia a essere un bel po di tempo e quindi quella famosa scintilla 6 io se dopo due anni che sto con una donna non è scattata la scintilla difficile mi sposi ci faccio dei bambini ecco questo è quello che dicono e cioè e io mi ricordo anche come arrivò lui quel gol lì col verona se vi ho ricordati in pallone io non so se oggi dusan fa quel gol lì quindi quindi questo se volete più preoccupante perché vuol dire che dusan quel gol lì li fa li sa fare ok però è evidente che sia successo qualcosa cioè qualcosa deve essere successo perché ragazzi il mio pensiero che è sempre il mio pensiero quando noi prendiamo un attaccante da una da una squadra più piccola so se vi ricordate giovin quando rivieni parma no parma torino sembra che a parma avessimo di nuovo trovato un altro roberto baggio e poi tornato a torino ha fatto quello che ha fatto e che era presumibile che 40 metri di campo in uscita palla al piede a sportellate con il non li potete non te li avrebbero fatti fare alla juve non ti concedono 40 metri di campo di campo aperto però il gol a empoli per me è il più grave di tutti quelli che abbiamo visto oggi perché lì un 9 della juve una partita inchiodata fa gol e scusa e scusa luca e il tiro che ieri fa vlaovic alto sopra la traversa sul passaggio dietro di fagioli di chi ok a gioli che gioca a sinistra in quella fase della partita e dalla dalla palla sul dischetto dietro da grande giocatore io non ti chiedo di fare gol ma devi metterla in porta e secondo me quel tiro lì di vlaovic valto perché anche vlaovic non ti dico che non ne può più di sta partita però è un po' sfiduciato e io credo che quello che dice luca un minuto prima si sbaglia si mangia quell'altro c'è quella di copminers sottoporta però lui stava ancora e questo brava e la fotografia lui stava ancora rimuginando sulla palla di prima quindi questa cosa dusan se la deve togliere io credo perché per chiudere restare sulle cose e tornare a quello che stava dicendo luca è che non so quanto effettivamente questo continua ricerca di sbloccare dusan sia effettivamente poi un aiuto per dusan cioè è normale fisionomico che si cerchi la punta però a un certo punto lì fagioli palesemente non serve uno non serve l'altro per farla veronica e riuscire a ridarla indietro a lui palesemente ha perso due tempi di gioco fagioli quello prima lì ok poi non succedeva niente uguale ma palesemente si stava cercando però bisogna trovare una soluzione anche perché ricordiamoci che la juve quest'estate non ha preso un altro numero 9 importante per lasciar tranquillo usa per non creare ad usan l'effetto buffon su cesni sono ricordate che sono cose che poi difficile che vengono fuori nei microfoni ma è cose che durante l'allenamento e nelle partite uno si cioè lo sai se in panchina c'è i buffon no sei tranquillo sì però in tanti in panchina c'è i buffon che gioca che nel tuo stesso ruolo quest'estate la juve non ha preso un numero 9 di livello perché di livello stiamo parlando evidentemente di holland o di julian alvarez stiamo parlando di un 9 importante per lasciar tranquillo dura perché dusan si sa essere fragile sotto questo punto di vista e a prescindere da questo episodio è un problema allora lui va dai microfoni viene in conferenza io lo ascolto in presa diretta dallo studio perché abbiamo le conferenze sul circuito dopo verona juventus quindi 3003 e l'ho trovato molto devo dire giocatori lui l'ho trovato molto più naturale quando vai ai microfoni che hai una telecamera sparata attaccata quali c'è la sala e quindi è più spontaneo nel rispondere un certo punto c'è una domanda che riguarda la pressione un collega gli chiede ma tu senti quest'anno le cose stavano andando bene sei gol in due partite hanno fatto lui aveva appena segnato senti la pressione lui dice io sto bene perché non sento la pressione finché non sento la pressione su questo devo migliorare in quel momento non la sentiva adesso improvvisamente ieri ieri più di empoli avevo la sensazione che lui sentisse il peso della partita come se per lui fosse importantissimo segnare perché non segnava da due partite a me lui dà la sensazione già l'anno scorso quindi da questo punto di vista togliamo tiago allegri robe varie la mia percezione che lui e questo è un errore di atteggiamento secondo me su quale tiago può intervenire magari lui ha l'idea di avere del terreno da recuperare nei confronti dei tifosi nei confronti di essere tra virgolette a debito e poi come se quindi se io sono a debito di dieci devo fare dieci devo fare dieci gol in dieci partite per tornare a essere ritenuto adeguato non è così cioè con quell'atteggiamento lì il carattere di Dusan non si associa secondo me c'è il rischio di fare ancora peggio lui non deve pensare a quello che non magari pensava di poter dare non ha dato detto che i gol comunque alla fine li ha fatti però nel passato lui non se ragiona su il credito che hanno i tifosi la Juve nei suoi confronti non ne esce lui deve riuscire a a tagliare pensare solo quello che che c'era come se fosse arrivato ieri questo può essere una buona soluzione dal mio punto di vista per il carattere il tipo di carattere che ha Dusan e io ho la sensazione di lui questo atteggiamento come se debba fare ancora di più e ancora meglio di quello e più gol più e recuperare un terreno perduto che che tanto è per e la e c'è chi dice bravi comunque ha fatto bene e c'è un dibattito che poi fino a se stesso perché tanto quello che conta e da quello che succederà da gioventusnappoli in avanti facciamo Dusan ti abbiamo comprato il 18 settembre 2024 va bene Maurizio ti piace questa idea ma possiamo farla posticipiamo rinnoviamo tutto ecco se facesse il nuovo contratto facciamo finta che inizi da quel momento però sono convinto che poi andiamo 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 avanti magari ma io sono convinto che comunque è un giocatore che ha sicuramente magari delle difficoltà e però a mio avviso non vorrei che poi le facessimo diventare più grandi di quelle che sono cioè adesso che non abbiamo più il come dicevo giustamente guido prima non abbiamo più la spaccatura tra l'allenatore da una parte i tifosi dall'altra adesso che sia più sereno abbastanza oggettivo sì 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 faccio un esempio ha preso dei cartellini l'anno scorso dei cartellini gialli che erano imbarazzanti fosse stato il presidente della società gli avrei decurtato centinaia di migliaia di euro per quei cartellini stupidi ieri sera non l'ho mai visto andare andare in difficoltà e l'ho visto sempre comunque sbattersi correre a disposizione della squadra poi sono d'accordo è che insomma bisogna segnalare come esulta il gol di il diz lo travolge lo travolge parliamo anche di diz che dite sai guido ti svelo questo segreto tu sei entrato che la puntata è iniziata a tre quarti d'ora e siamo solo passati in maniera tangenziale sui diz perché abbiamo detto teniamo ovviamente tutto schillaccio non so se io credo che tu possa anche magari voler spendere una parola noi abbiamo dedicato un capitoletto poi ci siamo introdotti dentro la partita attraverso l'atmosfera gli spalti le scelte e adesso andiamo poi su che non il diz non so se vuoi anche tu spendere due parole per la triste notizia di oggi e poi che non che non che non e io lo scrivo lo racconto spesso noi dell'83 quindi diciamo che la mia età in cui l'età in cui sono diventato mi sono appassionato al calcio che più o meno intorno ai 5 6 anni diciamo la juve non viveva esattamente un'epoca fino agli 80 a maggior ragione io sono di milano quindi qua avevamo il milan degli olandesi e noi con zavaroff e compagnia cantante andavamo non solo 89 90 inter dei record esattamente quindi tra l'altro 89 90 arriva anche tutto schillaci e io mi ricordo andavo già allo stadio prima partite lo stadio l'ho vista nell'ottobre 88 io e cesena 2 a 2 con de agostini a gattino cuttone insomma un cesena vecchio e una juve ancora vecchia e schillaci io mi ricordo che era stata la prima volta in cui io andando allo stadio mi accorgevo che c'era un giocatore che poteva far succedere le cose finalmente e in un diciamo in un in un in anni in cui io ho capito anche per mio padre insomma che non non è che dovevamo guardare un po' gli altri festeggiare e in cui in cui bisognava andare un po' a far vedere gli altri festeggiare tra l'altro noi li vedevamo qua appunto tra inter dei record del milan degli olandesi ci capitava spesso e volentieri che poi fosse qua poi si insomma c'era mito in maradona più avanti il il concetto era questo qui io con schillaci ho avuto la prima sensazione di dire o abbiamo uno che a un certo punto risolve risolve le partite io quindi ho questo o questo o questo ricordo e avevamo i tempi i posti in in tribuna d'onore con mio padre per sua vicissitudine lavorative e il mio padre mi scriveva stamattina io non me lo ricordo assolutamente che eravamo vicini alla compagine degli amici e della famiglia di tutto stilaci molto sempre molto numerosi e aveva una bambina più o meno della mia età che che con me insomma giochicchia eccetera e mio padre sorrideva e la moglie allora all'epoca che poi fu fu in questione insomma anche di se vi ricordate di cronaca sospirando dice a mio padre che ci vuole fare siamo femmine no come per dire che fa un po quella che si faceva vedere dall'altro bimbo della sua età quindi ragazzi cosa voglio la clip non ricordo assolutamente quindi ho avuto anche ho visto anche tante partite con la sua bambina di cui ribadisco non ricordo assolutamente niente e poi quel mondiale 90 che le famose notti magiche quindi io a totò che forse è stato uno dei maggiori esponenti del calcio del popolo per davvero anche per la tristissima condizione in cui poi se n'è andato perché insomma in una situazione di disagio che non va bene quindi per tutta una serie di cose io a totò voglio molto bene nonostante poi se ne sia andato male nonostante poi sia comunque andato all'inter e tutto quello che si vuole guarda quando è andato all'inter era più triste lui di te sì 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 lo ricordi era un po era un po arrabbiato con era molto arrabbiato con noi anche Anastasia era successo così sì 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 però ecco io totò con me se ne va diciamo così un primo pezzo di di uve che mi ricordo bene dal vivo di emozioni che mi ricordo bene dal vivo e e quindi lo saluto veramente con tenero affetto perché ha unito tutti oggi io vedevo i social network non c'era juventino no non c'era c'era tutta la gente che si stringeva intorno a un eroe del popolo davvero che ha unito in quelle notti magiche forse dove tutti stavamo un po meglio di oggi anche per la condizione in generale del paese era proprio era un simbolo di di bei tempi ecco quindi ciao totò ti voglio sicuramente bene ti ho tifato tanto come ha detto massimo zampini per quanto riguarda che è una nildiz e che è una nildiz ragazzi io ammetto visto da lì io ammetto che iniziavo a dire cavolo ragazzi che non gli spero tutto lì largo a sinistra con la 10 lasciato a se stesso secondo me rischia che ci facciamo male in queste partite no non lo so non iniziavo a dire perché poi ragazzi siamo uomini siamo tifosi siamo fatti di carne anche noi quando un certo punto ti dicono che un ragazzino e tu c'è quella voglia di innamorarti di riavere un'altra volta quel quella passione per quel giocatore che viene da te giovane nel quale crede c'è la bucci ributti dentro tutte le tue passioni le tue cose a non riesce essere di te non riesce essere freddo attendista aspetta 9 anni 123 vuoi tutto subito perché c'è la 10 della juve perché una bella storia da raccontare eccetera quindi questi questi inizi campionati giorno così era un po preoccupato per lui lasciato lì io continuo pensare che non sia il suo ruolo quello lì a maggior ragione sia un trequartista perché ieri con mainers ha giocato molto più indietro e quindi lui ha avuto molto più spazio per giocare anche più dentro il campo e quindi io ero un po preoccupato poi ragazzi io quando lì gli ha messo quella palla lì la gente si è alzata in piedi a 30 30 metri dalla porta no dai che non dai che non dai che non ce l'ha e quindi quando papà è venuto giù lo stadio di papà che abbracciano i bambini se la coppa è molto spesso e piena anche di tifosi che solitamente non vengono allo stadio e cosiddetti occasionali detto in maniera negativa però occasionale io voglio senza nessuna accezione voglio far capire alla gente che solitamente non viene allo stadio alle coppe ci sono e quindi proprio ha fatto bene al popolo e ma quello secondo me è stato solo l'inizio di una partita veramente importante di che era nel disc che non ha perso un pallone che usciva dalla doppia marcatura fatto fase di fatto fase di raddoppio dietro io l'ho detto oggi mi ha stupito la gamba di la gamba allora prima roba quella situazione lì l'avevamo preparata perché era la quarta volta che lui attaccava diciamo così il segmento dell'incrocio del dal lato diciamo della porta arrivando lì in quella mattonella lì era la quarta volta loro sempre chiuso andavamo una volta in sovrapposizione una volta interna appena hanno concesso quello spazio era proprio preparato che si potesse andare a sfondare di bravo ma poi l'altra cosa che mi ha stupito è che noi stiamo tirando il collo a iliz nel senso che lui è arrivato per ultimo ha avuto un intervento durante le vacanze che quindi non le ha praticamente fatte è arrivato per ultimo le abbiamo chiesto di giocare tutto tutto e di più e possibilmente di giocarle bene alla fine ne ha steccata mezza possiamo dirlo come prestazione eppure ieri aveva una forza nelle gambe non è il gol nelle gambe ditemi se sbaglio che arriva anche dalla testa ma che ci dice che anche un grande atleta ma quello scusa scusa luca scusa luca questo per me era evidente anche l'anno scorso cioè la sua prima forza per me era questa quella forza nella nelle gambe lì quel quel buttare giù le gambe proprio nel terreno che sembra che vada giù di fino alle caviglie e la cosa che fa impressione che questo gli permette sempre di proteggere con la sinistra di saltare con il resto certo perché perché qual è l'altra grandissima cosa che viene a prendersi quei palloni in uscita che non vuole nessuno con un raddoppio alle spalle e lui si dice qua la perde o quantomeno prova a prendere il fallo laterale buttandola sugli stinchi del del su di uno dei due e invece no e che sia sinistra e che sia destra perché io guardavo come si mettevano i difensori e non ne capivano niente perché se ti metti andogli all'interno del campo se ti metti in base a con e a lui che ha tutto questo baricentro basso che quindi ti dà pochi punti di riferimento su dove vuole andare ti salta sempre da fermo c'è stato anche uno slalom a un certo punto maurizio stefano suola esce dall'esterno portandosi dentro il campo suola destra sulla sinistra muovendo sempre pallone quindi non un numero fino a se stesso è saltato poi mi pare che alla fine l'abbiano steso di brutto perché stava uscendo anche in quella situazione creando superiorità numerica stefano il diz e a me ha impressionato proprio quello che dicevate prima cioè questa questa esplosività cambi di direzione questa gamba e poi come diceva guido il primo gol suo la lingua il tiro cioè ne avevamo bisogno tutti ne avevamo bisogno avevamo bisogno di vedere anche una partita così da lui perché anch'io appunto in questo inizio di campionato ero lì a chiedermi kenan e poi anch'io sottolineo questo il pubblico di ieri appena lui ha la palla vai kenan vai kenan mi ricorda pogba nei tempi d'oro c'era anche la palla fuori vai vai poi tu ricordi come è insultato ieri al gol di diz che sblocca la gara sì ho preso mio figlio l'ho strattonato in modo violento farcelo vedere simulando ovviamente il figlio lascialo tranquillo puoi farci vedere la scuola se non si presterebbe anche e proprio quella cosa violenta che faccio di ma guardandolo negli occhi o guardando il ziz no no guardandolo negli occhi strattonandolo e poi c'è era giusto che fosse lui il primo a fare questo gol era giusto che mio figlio fosse lì a vedere quello che speriamo sia il futuro ho ancora un po di dubbi di quanto lo sia il futuro però era perfetto era così che doveva che doveva essere poi dopo sentirlo al microfono con del piero insomma non si può godere di queste cose però poi vabbè io sinceramente ieri il diz per la prima volta ho visto l'ildiz che che vorrei vedere sempre anche se poi in realtà mi sono concentrato molto di più a vedere nico quindi apre un altro tema ma magari la prima mi hai detto che hai guardato tutta la partita cup minor ma quanti occhi hai poi quando sei allo stadio sei talmente innamorato che ti soffermi sono le tifose le donne ma chi se ne fare c'è io quello guardo cioè non nel senso è malizio lo stadio bello per questo ref vero che puoi decidere di vedere chi vuoi in continuazione e soprattutto vedere cosa vuoi perché io invece devo dirti che allora anch'io sono andato con mio figlio mio figlio ha 22 anni mio figlio già ha già alle spalle una finale di di champions vista live a cardiff quindi è vaccinato però alla fine ieri sera a un certo punto dopo il gol anch'io ci siamo abbracciati ci si è messi così poi a un certo punto mi ha detto papà mai ai le lacrime agli occhi ed è vero sai perché perché dal mio punto di vista il gol di ieri sera di il diz rappresenta un po quello che fu per me il gol di del piero con la fiorentina e io ero in tribuna con la persona non era mio padre ma era la persona per cui io grazie a lui sono diventato tifoso delle juventus in una famiglia di granata mio papà era presidente del torino club valpidoni quindi stanno parlando di roba seria e io mi ricordo il il mio amico davide che purtroppo ne parliamo anche se ne andò durante il covid e che aveva il letto bianconero come i bambini come quelli di ello kitty lui aveva il letto le lenzuole della juventus in ginocchiato me lo ricordo come se fosse adesso in ginocchiato in sud con le braccia in alto come se fosse a me giugori per un cristiano ecco ieri sera a mio figlio ho detto mi auguro che tra 30 anni 40 anni tu questo gol te lo ricordi ancora come io ricordo il gol di del piero come io ricordo il gol di del piero a dortmund perché io da arbitro non potendo vedere le partite di campionato perché la domenica si abitra io quegli anni lì mi sono fatto tante trasferte anche di gioco e quindi il gol a dortmund a se in quel settembre del 95 95 5 5 5 5 ricordo bene eravamo là a vederlo e devo dirti che insomma ieri sera è stato proprio questo mi ha emozionato per questo per questo motivo tanto che poi ho comprato la maglietta faccio una domanda solo sino perché a me succede questo in genere soprattutto se sono allo stadio purtroppo non c'ero ieri quando un giocatore calcia c'è quel momento in cui il piede viene a contatto hai l'idea ci sono alcune volte io mi ricordo e mi dico questo è gol cioè che hai la sensazione già prima che esca il gol è stata sì o no quella sensazione ieri sui dis io ne potrei descrivere decine di gol che ho detto quando l'ha prezzo cioè ho già capito dove andava o esultavo prima sai come quelli che esultano per me no 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 confermo assolutamente no io dalla curva io dalla curva perché ero in quella diagonale devo dirti che ho visto dove mi è successa la stessa cosa quando accade il gol di il gol di in finale di supercoppa dopo il covid quando vincemo a reggio miglia con l'atalanta madonna quello che è dato al totten dai aiuta il gol di kulusevski che noi da dietro abbiamo visto sulla finta che fa quel tiro a giro che va in quell'acqua quando esce ieri sera come se il pallone ti veniva addosso per il riscaldamento che devi sempre stare attento mi viene addosso mi viene addosso poi tutto in un tratto detto o il problema del portiere non mio gol beh ecco scusa luca perché un ascoltatore ha detto la cosa precisa giustissima giovanni giovanni l'albanese giovanni l'albanese giovanni l'albanese mi hai fatto venire in mente che doveva venire giovanni oggi ma sai che giovanni ogni tanto questo colpo ce l'ha è perché lui ce l'ha è un colpo alla vlaovic gli anni l'albanese dice giustamente che ha tirato una fucilata cioè che è diverso dal tiro la del tiro che tu vedi che gira lui tira una sberla che io pensavo andasse fuori di poco ma fuori cioè non è il tempo scesa all'ultimo scesa all'ultimo una fucilata quindi quindi era difficile secondo me capire da quella se appunto è sempre giovanni l'albanese dice giustamente se non hai piedi quella palla lì finisce ad orbassano e ha ragione perché provincia di torino certo no perché non è facile tirare con quella forza in diagonale hai appena saltato l'uomo quindi se praticamente fermo perché ti sei spostato la palla non è che l'hai non è che hai preso la rincoa si tirato mi pare bin sport abbia il software o un amico che stava seguendo la gara dalla spi e la seguiva con b sport mentre io faccio la cronica mi ha mandato lo screenshot e dava 87 mi pare chi dirò mezz'ora ecco sul secondo palo sul secondo palo in diagonale quindi insomma io ti dico che dove ero io una palla colpita d'interno d'interno dove dove ero io la gente e non ha passato qualche secondo a capire perché io ero in piedi non avevo i miei posti no ero in piedi in secondo anello dietro così posso stare indietro avanti indietro posso stare e come me lo fanno tanti ragazzi no sì lo fanno tanti ragazzi e la gente si è capovolta nelle prime file davanti e caldo perché c'era questo misto di evviva gol di cosa ha fatto cosa è il viz che quindi quello che dicevamo prima no tutta la narrazione la speranza che viene qui c'era un insieme di messaggi di di emozioni di considerazioni che uno doveva fare al volo che palesemente i cervelli umani non erano in grado di elaborare tutti insieme in un colpo solo ecco allora la domanda bello ma il rumore del palo stendo quello c'è sentito fa lo stenga sentito quello ti prende sai qual è luca un'altra cosa da stadio molto bella che può essere mi auguro tanti bambini tanti bambini ragazzi bambini piccoli 4 5 6 7 8 anche 10 12 anni tutti con la maglietta di hildiz questo è è già un passaggio generazionale vuol già dire che lui è già entrato di diritto eh così come lo era lo era per noi almeno io che sono purtroppo più vecchio di voi eh lo era stato platini eh lo era stato poi lo è stato poi del piero ne ha ne ha ne ha strada da fare perché no no ma guarda io non voglio che poi loro per tutti c'è stato un primo gol in Europa un primo e poi però qua tiriamo in ballo mostri sacri il titolo secondo me non è molto consapevole anche delle difficoltà ma la serietà del ragazzo veramente secondo me ci fa ci fa spendere grande fiducia comunque scusa scusa no dicevo luca giusto per dare la mia eh oggi vedevo su x in giro tutti i paragoni no tra il gol di del piero la steau e il suo ma lo è solo per immaginario per narrazione come diceva guido cioè sono due gesti atletici secondo me differenti io continuo a preferire quella quella quei quei tre gol di Alex oggi durante la diretta sul tubo un utente ci ha scritto Giuseppe Virginia del piero pennella il diz calcia e non era una critica il diz nel senso che questa quella che aveva del piero su cui giocate che la palla partiva ma tu non avevi l'idea che l'avesse calciata mentre quello di il diz è proprio il tiro dell'attaccante dell'attaccante forte comunque quello che diceva quello che diceva quello che diceva Maurizio eh che è molto importante anche questo evento arbitraggio decente no no ci arrivo dopo ci arrivo maurizio invece sull'eredità e su quello che i bambini vedono che è importante no perché ricordiamo che insomma oggi il marketing ti concede di andare di entrare nelle case persone parlo delle macchinine dei giocattoli della zebra j dei cartoni animati che ha permesso di cristiano ronaldo a tanti bambini diventare i ventini da soli e questi che saranno poi consumatori di domani quindi sicuramente ne parlo evidentemente di con con cognizione di causa e sono sono operazioni molto intelligenti questa di il diz Maurizio mi è successo quest'estate ero a bisceglie nel paese di mia moglie in puglia dove avevano dove inaugurano il 13 di agosto il primo bisceglie juventus official club no quindi anche bisceglie avrà il suo juventus club e lì in prima di aprire sulla vetrata c'era esatto la della decalcomania insomma chiamano una cosa che di il diz mia moglie passa col bambino mano per la mano passeggiando dice a papà la juve sì e questo chi è effettivamente mia moglie che non si interessa di calcio però li conosce sta con me quindi fosse stato del piero abbia detto del pieromo si gira in casa di me come per dire e questo chi è effettivamente e io come glielo spiego chi è e perché è così importante chi indossa quella maglietta che ti ho spiegato di vialli ti ho spiegato di e ho detto amore questo sarà quello che spero ti farà innamorare e di quello di cui tu mi chiederai la maglietta perché a questo punto giustamente sei stato investito di questa roba qui e quindi poi torniamo a quello che diceva Luca devi avere la consapevolezza sapere cioè it's a long way to the top if you wanna rock and roll no quindi eh sai che sai che sai che tosta no sai che tosta però se ti viene concesso di poterlo fare vuol dire che lo puoi fare e allora è giusto che i bimbi si dimentichino magari la 10 di Pogba dell'ultimo giro non stiamo adesso interpondendo lo specifico e si mettano quella nuova di zecca con quel gol lì negli occhi a sognare il diz clippiamo clippiamo maurizzo cosa volevi dire su no volevo dire due cose la prima mi hai fatto venire in mente Guido avendo io una moglie brindisina quindi che voglio salutare gli amici del questo è stato conosciuto gli amici dello Juventus official club di Carovigno Alex del Piero e i diciamo i tifosi comunque gli iscritti dello Juventus club di San Michele Salentino quindi li saluto gli avevo promesso che alla prima diretta li avevi salutati grazie salutiamo anche noi bravi bravi e seguono vedono e vanno e la seconda cosa era riferita all'ambitraggio ieri sera l'ambito ha fiscato 12 falli 12 falli perché poi adesso sul nuovo tabellone viene fuori no la anche un po' di statistiche c'erano 12 falli e questo è stato un merito fondamentalmente dell'ambito perché poi dicono sia ma i giocatori l'hanno aiutato lui al primo visto che uno ha scritto che nei primi 15 minuti non ha fischiato non ha fischiato tutti quei fallettini di cui gli ambiti italiani a volte si nutrono a volte fiscano per molte sì più che a volte no vabbè io se ho detto a volte lo dico con cognizione di causa a volte abbondano con questi fischiettini che poi sono quelli che spezzettono il gioco rompono il gioco se l'arbitro da immediatamente questa direzione ieri ieri forse c'erano due tre falli non li ha fischiati di quelle simulazioni di quei mezzi contatti non è più caduto nessuno quando ha fischiato ha fischiato tutti i falli seri questo cosa vuol dire vuol dire che se in italia anche i nostri arbitri che qualitativamente sono decisamente superiori a volte ad alcuni di orolega si orolega la mia scusate di champions league credo che anche il calcio italiano possa diventare un qualcosa di un po più spettacolare di un po più con un maggior ritmo perché poi dipende tutto dipende tutto dall'arbitro adesso vi faccio io una domanda però secondo voi tiago motta del gol preso al 92 e 50 secondi che cosa qualcuno io non ho visto la conferenza stampa è furibondo ma è talmente intelligente che non lo tira neanche in ballo ma è una roba che la io sono certo perché voglio dire è furibondo ma siccome un uomo intelligente non ha rovinato la festa a nessuno ieri sono certo e ve lo so per dire che nel prossimo allenamento questa cosa viene fuori guarda guido ti dico una cosa prima che tu entri collegassi abbiamo parlato di questa e io ho detto che ho apprezzato luca ha chiesto a me a stefano quali fossero no le cose che abbiamo visto dal campo e io ho detto che mi piace questa idea comunque con molta serenità di cercare sempre di giocare il pallone ieri di gregorio a 92 e 30 calci il pallone di là della metà campo l'arbitro fischia alla fine cantiamo l'inno ci abbracciamo e andiamo a casa ha provato a fare questa giocata qua poi non so chi ha perso il pallone questi ci vengono in porta e credo che questa cosa qui insomma sia un po farà rumore quindi me lo confermi me lo confermo no non lo so ancora è ma ripeto l'allenamento non c'è stare ovviamente oggi non c'era stamattina e non credo almeno però ve lo so per dire cosa cosa e se è venuto fuori qualche qualche cosa io credo di sì ripeto l'intelligenza di molta è che ti viene a dire no no chi sempre no no non è proprio godiamoci questa figura ma giustamente figurati se mi rovino tutta la i trick per per una roba del genere primo allenamento ok ragazzi pallone di gregorio col pallone di gregorio sì tu mettiti qui tu mettiti qui tu mettiti qui come si fa a prendere un gol così al 93 perché noi dobbiamo tenere la parte eccetera 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 poi dirà cose che io non conosco perché io sono uno qualunque che parla qua con voi lui l'allenatore della juve spiegherà come certe cose mi raccontate in una frase a testa tiago motta allo stadio durante la gara in champions eh in champions come in campionato è serafico e tranquillo non ti viene da guardarlo a me non a me non viene da guarda quindi anche i giocatori possono vivere senza l'idea di doverlo guarda di dover avere un allenatore che gli sta che gli sta facendo le pulci sulla giocata cioè lui lascia il giocatore anche tranquillo di testa l'ha detto non mi ricordo chi l'ha nico forse l'ha detto a fine partita ci lascia liberi di fare quello che sappiamo fare l'ha detto un virgolettato credo di nico e io io lo vedo dicendo di di allegri ogni tanto si sentivano anche gli strigli vero cioè lì si sentiva proprio dalle tribune lui lo vedi lì è sempre molto molto tranquillo come se avesse sempre la situazione sotto controllo ti dà quell'idea lì ti dà un peccato perché tra tutte le persone che guardavo quando ti dicevo che guardavo quegli anni non hai guardato te no no io tiago bellissimo voglio vederti secondo me la giacca non li veste benissimo la divisa stavo notando quella cosa lì ma lo guardavo perché volevo ma è la taglia non lo so li vesti un po non so facevo anche queste considerazioni perché lo trovo comunque bellissimo ma lo guardavo ma lui non mi dava soddisfazione perché concentrato calmo non gesticola quindi tempo perso quindi no torniamo a guardare sul campo ero molto curioso di vederlo appunto avendolo visto sempre solo in televisione poi quando lo guardi guardi le inquadrature dalla dalla televisione vedi questo sguardo comunque molto fisso molto concentrato però no un po una delusione dal punto di vista scenico ecco mettiamola così maurizio a me invece in tante cose anche questo fatto qua che ogni tanto deve bere dalla bottiglietta dal mi ricorda tanto allegri l'allegri il primo allegri no che comunque era un po più posso dire un po più compassato un po più in gestione un po più tranquillo però devo dirti una cosa si vede questo fatto qualche coi giocatori è completamente diverso tutto dal riscaldamento perché io ci guardavo anche ieri dal dal riscaldamento dei quando i giocatori dei sostituti quando si alzano dalla panchina c'è un preparatore che va là e li fa fare riscaldamento io ho visto alcune volte dei riscaldamenti in curva ero lì vicino nella nord e riscaldamenti dei giocatori l'anno scorso sembravano veramente c'erano due o tre che veramente sembravano quelli che giocano in giocano con mio figlio quindi voglio dire no e quindi c'è stato proprio un cambio molto molto forte in questa cosa qua e poi voglio dire il discorso è anche è anche uno che a mio avviso ci tiene molto ecco l'ho visto anch'io questo che sul secondo gol ha esultato e col suo con suo aiuto il vice allenatore è vera questa cosa durante il riscaldamento da io e non si calcia in porta no non ho ancora visto uno io no no ti dico non calciano in porta giocano molto usano molto più il pallone come come manita diciamo di riscaldamento fanno diciamo una parte iniziale di attivazione muscolare anzi no fanno già l'attivazione muscolare probabilmente l'hanno fatta dentro nello spogliatoio fuori fanno proprio un qualcosa di un po più intenso dal punto di vista fisico e dopo fanno tantissimo con il col pallone cosa che invece gli altri anni facevano un po facevano un po meno ci siamo un po adeguati ad alcuna grande squadra europea che quando veniva qua a giocare guardavamo riscaldamento vedevi sempre prediligere l'attività fisica più col pallone che diciamo senza ma io ma ragazzi tanti chiedono di parlare di douglas luiz ma oggi no ve lo dico è il giorno in cui spendere qualche minuto douglas luiz io li spenderei su nico gonzalez che è l'unico che non abbiamo ancora citato vai su nico cosa devi dire il sombrerone il sombrerone in campo aperto no ma è un sombrero e un lancione per se stessi questo luca nico è stato tante cose ieri dai è stato tante cose a parte a parte quella cattiveria assassina argentina di rincorti di prendere quello che deve prendere per fermarti che a noi manca quella roba lì ragazzi cioè io io ricordo i tempi ero sport italia e facevo questa domanda a letizia non so se ve lo ricordate il benevento no dopo quelle il benevento juve e io dico io chiedo ero lì ero nel print time con cresciti alla rompedulla e chiedo scusa ma che sensazioni ti ha dato la juve no perché cominciano i primi scricchioli e fa quando sono usciti dallo spogliatoio non hanno capito che ce la potevano giocare cioè non ti trasmetteva più non ti trasmetteva più quella quella roba lì la juve mi ha detto no e a noi questo è quello che ci è mancato negli ultimi anni al prescindere dalla guida tecnica e questo a noi io quando vedo uno che a quei piedi lì inseguirti e nel caso deve ahimè picchiarti ti picchia io sono le cose che a me piacciono tanto sono fatto male ho le mie perversioni non so cosa dirvi però a me piace tanto che un 11 ti insegua finché qualcosa non prende ok è un di maria che corre eh ragazzi ma quanto corre ma ma allora un piccolo di maria che corre però va sempre a saltare l'uomo non è detto che sul primo dribbling vada per forza sempre sul sinistro lo vedi che va anche sulle sull'esterno eh tanta voce gliela respiri proprio si sente la voglia che a nico e ieri se anche tanto sacrificato quell'azione lì in cui parte con attaccato il marcatore che palla al piede piano piano li prende mezzo metro alla volta e per poi allargarsi insomma secondo me quelle sono le famose tante piccole cose di cui la juve ha bisogno e sono anche quelle che mottano a così e la ieri nico è piaciuto tanto e ragazzi io per nico e calulù quest'estate mi volevo buttare da dal molle gatto un galitello e devo dire ero 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 c'è io quell'attesa lì di calulù mi svegliavo la mattina sembrava una pubblicità che si guardava allo specchio dal sorriso dicono calulù che ci fa aspettare cioè mi faceva sbattere e andavo fuori e ragazzi ma quanto è forte e in tutto perché in tutto ciò io avevo intanto anche i tifosi milanisti amici che mi dicevano guarda che non capisci niente guarda che forte ho detto anche preso per il culo da questi qui che mi dicono che forte eccetera eccetera e invece ragazzi devo dire che calulù e nico gonzalez a oggi sono due dei tre quattro migliori uno è sicuramente locatelli poi ditemi quello che volete e l'altro decidetelo voi il dis va bene per ieri però dico noi l'abbiamo noi l'abbiamo già deciso e tu sei arrivato dopo com'è andata luca ieri tutto bremer tutto bremer ma e beh sì è vero io l'ho messo nel top ieri eh nel top volevi dire una cosa sull'arbitro maurizio prima che ci salutiamo no no l'avevo già detto prima mi è piaciuto molto e soprattutto la cosa bella è che ieri dopo tanto tempo abbiamo esultato i gol senza la paura che poi non lo so sono stati perché perché mio figlio mi ha spiegato che soprattutto gli spagnoli per loro il VAR è come cioè come se non ci fosse quello che decide l'arbitro in campo va bene e quindi io avevo timore sul gol di nico gonzalez che ci fosse un gioco e tant'è che l'ho aspettato un attimo poi ho visto che non è uscito neanche il check in corso e quindi però ripeto ieri sera l'arbitro la sua bravura è stata quella probabilmente sarà una direttiva a livello europeo adesso mi informerò con chi di dovere ma ieri sera il fatto di non aver fischiato quei fallettini da 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 ginnastica artistica che ogni tanto vediamo fischiare ha contribuito a fare in modo che i giocatori poi giocassero serenamente cosa cosa fai sabato pomeriggio sabato pomeriggio guarda devo andare ho già prenotato il parcheggio in corso alle sandra perché io parcheggio sempre lì perché poi in direzione milano in un attimo sei dentro in tangenziale quindi ho prenotato il parcheggio per sabato alle 15 e poi e poi mi sveglio già con lo stomaco chiuso non parlo con nessuno comincio a gironzolare per casa facendomi delle domande non lo so sono molto molto curioso di vedere sabato fischi conto no e quando lui a guardalo guidone guarda adesso è qua che ti voglio perché poi voi insultanti ma noi ambiti prendiamo le decisioni non abbiamo paura di aspetto la parola di luca poi vi dico il mio sabato una una parte è una parte di me lo vuole fischiare lo vuole odiare una parte di me se lo tiene ancora lì però credo che l'indifferenza debba vincere in questo caso bisogna guardare noi guardiamo noi non guardiamo non guardiamo quello però non ho ancora deciso lo capirò sabato mattina è come il voto sei indecisi esatto guido sabato che sabato sarà cosa hai programmato allora io pensavo di essere io arrivo sempre a ridosso delle formazioni no invece questa volta mi è stato chiesto di arrivare un po prima perché il perché insomma vanno tutti accolti come devono essere accolti io a memoria d'uomo non mi ricordo una combo di club e allenatore di quel club che facesse un delta di odio sportivo evidentemente così alto come quello che io ho sabato io sabato o dio sabato devo riusci devo 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 chiedere a mia moglie che mi chieda di prometterle qualcosa riguardo al mio comportamento perché io io perché juve io juve inter del condottiero degli altri purtroppo erano a porte chiuse io non ne ho visto neanche uno non ho avuto modo di accogliere di accogliere quello lì con con la maglia di quegli altri non l'ho mai questa è la prima volta che insomma il personaggio torna 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 da noi su una panchina tutto sommato che diciamo non è esattamente una panchina morbia quindi per me sarà una partita nella partita non è un segreto per nessuno che è lo sportivo che meno sopporto così lo dico in maniera educata a a a discipline incrociate proprio se metti dentro anche gli sci le 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 gli anelli le parole bocce le carte le quello che vuoi su quindi io ho 41 anni sono una persona rispettabile e un buon lavoro una bella famiglia eccetera eccetera ma sabato mi prendo proprio 900 minuti per me perché ne ho proprio bisogno perché ce l'ho qua da 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 quel luglio lì da quel luglio lì del duemila del 2014 e poi come si dice sempre no più in alto sei per qualcuno più fai il rumore quando cadi e allora se su quella panchina ci fosse stato so di termine voi un nome un altro ci sarebbe meno risentimento da lì diciamo che non è imbroccata una perché non è solo quello ma io come spesso racconto l'inter è l'ultimo dei miei problemi c'è tanta roba in mezzo che mi ha dato molto più fastidio di quello ma io per me io domani io sabato c'ho juve napoli c'ho io che conte ci abbiamo non dovevo neanche nominarlo però una voglia di fare bene io che se ce l'hanno anche i nostri può essere un salto pomeriggio interessante maurizio io faccio come lui e in più ci mettiamo anche ma lì so già che ci penseranno gleison e gattone c'è anche la simpatico lukaku perché il simpatico lukaku ha vissuto io sono una persona che se uno mi quando sento parlare di razzismo a me viene perché io in campo ci sono stato e credo che noi arbitri a livello di razzismo siamo potremmo spiegare a tutti ma credo che lukaku quella quella dopo il rigore la presa per il culo che fece alla curva non era la sua esultanza no quello non è esultanza quella è un'esultanza che se la fai a nei campi caldi in cui ho arbitrato io anche se la facevi al pianale di cantù uscivi alle quattro e mezza del pomeriggio con la partita a mezzogiorno quindi è perché ci sono dei comportamenti che vanno tenuti quindi poi si rimane ovviamente nella nel rispetto nell'educazione e mi auguro che non ci sia ancora qualche deficiente che abbia voglia di mettersi a fare ma soltanto a far capire a queste persone che c'è il rispetto e nel mondo dello sport il rispetto è tutto perché come ha detto guido un giorno sei in martello ma il giorno dopo puoi essere in cudine e quindi il rispetto non deve mai mancare siccome secondo me ne conte né lukaku e nei tifosi del napoli quando sono venuti allo stadio hanno sempre ricordato il rispetto che cosa non è il rispetto allora domenica cerchiamo sabato cerchiamo di farglielo ma ma mi ma ci tengo a precisare per quanto mi riguarda tutto quello che io ho appena detto non andrò contro a no ma certo ci mancherebbe altro ci mancherebbe altro come dico sempre guido infatti nell'odio sportivo non c'è bisogno di specificarlo sabato non si gioca juventus napoli si gioca tolomei conti noi ve la racconteremo prepartita live match post partita e poi comunque ragazzi ve lo dico prima prima che vogliate le clip prima che vogliate il risultato per stavolta mi interessa il giusto perché poi non venite mi hai visto con perché ci sono anche i nostalgici ciò che allora è visto è tolomeico mi interessa non mi interessa io devo dire quello che penso e manifestare me stesso nel rispetto e nella libertà di tutte le persone che ho intorno quindi state tranquilli che non vedrete non finisco al telegiornale tranquilli e non mi fermeranno anche uno studio state sereni mi comporterò come ci si deve come ci si può comportare allo stadio ma io ho bisogno di liberarmi ok e quindi mi libera poi perderemo 3 a 0 bravo Antonio Conte che è un bravo allenatore non è che sei più il tentario ci mancherebbe altro perderemo pazienza ma io sarò un uomo più sereno in più in pace con me stesso ragazzi io chiedo a guido di non so subito domenica o lunedì di venire poi a raccontarci come è andata la partita quella ma non saranno in grado di iscrivervela secondo me lunedì dovrei aspettare qualche giorno che mi torni probabilmente la voce se magari facciamo mercoledì o giovedì stefano goitre grazie ciao luca grazie mille grazie anche di avermi dato la possibilità di conoscere sia maurizio sia guido che il mio idolo tante affinità milano età figli esperte grazie 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 a maurizio maurizio bigi grazie grazie a tutti voi è stato un piacere come sempre fino alla fine forza juventus se io quasi quasi ti chiederei uno strappo alla regola guido giusto un interventino a caldo ma tre minuti nel post partita dal cellulare a tuo rischio e pericolo poi però è mi firmi un nulla osta non voglio non voglio non voglio vabbè te lo richiedo sabato va bene dico sei sicuro se vuoi sì va bene intanto ringrazio wizard che puntata no grazie a voi la puntata luca giuntoli abbiamo veramente parlato un po di tutto abbiamo messo insieme i pezzi di una giornata purtroppo condizionata dalla notizia questa mattina della morte di totò schillaci abbiamo ognuno dato il proprio contributo anche su questo argomento ovviamente questa volta è lui che c'è no questa volta come spesso accade era molto bravo ci ha preso in contropiede volevamo poter vivere la giornata del dopo champions 3 a 1 al psv anzi forse una gara da 4 5 a 1 per quello che abbiamo visto e questo ovviamente ci ha molto molto tranquillizzati oltre che gasati in vista dei prossimi appuntamenti prossima settimana non ci sarà l'infrasettimanale quindi sarà quasi un'eccezione si gioca sabato con napoli sabato col genoa e poi si riprende ogni tre giorni l'ipsia e robe varie ok vero sì two